questo programma è stato presentato da ferri e da arena waterware gelati sanso accendi l'estate messaggio speciale per tutti i gatti e i loro amici anche voi potrete essere protagonisti di una straordinaria graffiante trasmissione con i gatti più belli del mondo che si contenderanno il titolo di gatto dell'anno friskis 2001 se pensi che il tuo gatto sia il più bello del mondo invia una sua foto un filmato a amici a quattro zampe presso il newton casella postale 10 19 milano e avrai la possibilità di vivere questa straordinaria avventura su canale 5 puoi iniziare a votare la tua razza preferita e avere maggiori informazioni cliccando sul sito internet gatti punto virgilio punto it e tocca a me fare la doccia non ancora da oggi avrai voglia di farti e rifarti la doccia perché con la nuova formula acqua soft di nivea la pelle migliora sensibilmente la sua naturale idratazione ad ogni doccia da nivea la nuova generazione di doccia schiuma idratanti servizi in camera potrei avere altri asciugamani tecnologia multiplexage abs 4 airbag climatizzatore e computer di bordo citroen xara picasso tua da 29 milioni 950 mila lire prezzi bloccati fino al 30 aprile citroen xara picasso eletta auto più bella del mondo della sua categoria nell'anno 2000 da rock il nuovo idratante idra più vitamina attiva un esclusivo dispenser mantiene intatta tutta la vitalità delle vitamine fresche sul tuo viso risultato una luminosità mai vista prima rock idra più vitamina attiva vitamine più efficaci pelle più luminosa rock mantiene le promesse yogurt da non vita snella ogni giorno armonia leggerezza e gusto buona frutta e solo lo 0 1 per cento di grassi da non vita snella ogni giorno un corpo vita snella per te ogni giorno dalla semina al raccolto dei pomodori migliori dalla carne dei pascoli del sud america al tonno dei mari del pacifico gli uomini star selezionano la qualità delle materie prime per te producono con impianti e tecnologia d'avanguardia controllando la sicurezza e la qualità dei prodotti e li consegnano ogni giorno per mantenere tutta la freschezza del sapore questa non è un'azienda qualunque questa è un'azienda che merita fiducia questa è la star e questo è il suo ufficio carino lei ci lavora da 12 anni questo è un cellulare serve per comunicare con persone distanti ma dai casa vostra e beh visto tutto a posto chi fa una vacanza al pitour si dimentica tutto perché al pitour ha inventato vacanze di valore il programma di servizi che si occupa di tutto anche di cose lasciate a casa familiari compresi il suo papà la sua mamma vacanze di valore al pitour vacanze vacanze scusa una donna come te che reggiseno porta tutti dicono un fiore stream tv è grande cinema su sei canali oltre 65 film al giorno 365 giorni l'anno tutta la uefa champions league tutto wimbledon gli open d'italia i campionati mondiali di hocai su ghiaccio e il wrestling della lega pro usa e se ti abboni oggi guardi gratis fino al 31 agosto abbonati subito mamma mamma 100 kg di pesche si 100 macchie da lavare queste adesso chi le toglie signora non faccia così provi nuovo di xan formula 100 macchie venga è qui in profondità che la forza di nuovo di xan con per l'ottile agisce su 100 macchie difficili perfetto che risultato chi vuole le fragole nuovo di xan formula 100 macchie da sempre campione contro le macchie ritrova la stessa forza nelle pratiche di xan tabs provale subito vola a gardaland il signor rex è impaziente di conosciuti dino island l'isola dei dinosauri al cinema compaq è più di un marchio sulla bmw williams i notebook compaq armada m con processore intel pentium 3 permettono al team tecnico di monitorare la vettura di intervenire e prendere decisioni durante la gara e a frank williams di realizzare il sogno di vincere ancora il campionato del mondo di formula 1 compaq soluzioni per le aziende contro gli inestetismi della cellulite calo cell test clinici hanno dimostrato in 60 giorni che la circonferenza cosce diminuisce la ritenzione idrica diminuisce l'effetto buccia d'arancia diminuisce la pelle più idratata più nevigata più morbida calo c'è in farmacia c'è un'auto diversa da tutte le altre è la nuova ford mondeo è grande nelle prestazioni con il nuovo motore turbodiesel 16 valvole da 115 cavalli è grande nello spazio con oltre un metro per le gambe dei passeggeri posteriori è grande nella sicurezza con la sofisticata tecnologia dell'intelligent protection system nuova ford mondeo pensata in grande punta più in alto con omni one il programma che ti premia chiama il 2626 da omni del vodafone domenica 13 maggio si voterà per le elezioni politiche e in alcune città per le elezioni amministrative per le elezioni politiche saranno consegnate tre schede una per eleggere il candidato alla camera nel collegio uninominale contiene il nome del candidato e accanto il simbolo della coalizione o della lista che lo sostiene dovete tracciare una croce una sola o sul simbolo della coalizione o della lista prescelta oppure sul nome del candidato un'altra scheda è destinata all'elezione dei senatori contiene il nome del candidato al senato e accanto il simbolo della coalizione o della lista che lo sostiene dovete tracciare anche qui una croce ed una sola o sul simbolo della coalizione o della lista prescelta oppure sul nome del candidato la terza scheda serve ad eleggere i candidati alla camera nella quota proporzionale contiene i simboli dei singoli partiti e accanto i nomi dei loro candidati anche qui dovete tracciare una croce e ancora una volta una croce sola o sul simbolo della forza politica prescelta oppure sul nome del candidato attenzione qualunque altro segno sulle schede renderà nullo il vostro voto cari amici di tra poco dal teatro parioli in roma andrà in onda una nuova puntata della maurizio costanzo show prima però vi ricordo che domani sera alle 21 potremo assistere alla nona puntata della nuova serie in prima visione tv il bello delle donne con stefania sandrelli giuliana desio gabriel garco eva grimaldi nicole grimaudo antonella ponziani lunetta savino caterina vertova nessi brilli nel ruolo di vicky con birna lisi e ora è il momento del maurizio costanzo show a piuttarmi